Ancora, 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 in onda, cari amici, la mia vita di imprenditore mi ha insegnato quanto io abbia pagato per avere rapporti con una donna e prestazioni sessuali. A me piace con i giovani, a casa mia, ho avuto uno stabile rapporto con una persona, minorenne per un intero giorno nella casa di Arcore, di tutte e di più, tutti i partecipanti a quelle serate hanno rilasciato al riguardo dichiarazioni che sono inequivocabili. Di Colminetti è stata piegata da me la finalità di carattere sessuale, impiegando in queste operazioni la persona minorenne più di cento uomini e sono orgoglioso di averlo fatto, lo voglio ripetere, mi piace circondarmi. di giovani, con l'individuazione di tutti i loro numeri telefonici, a tutti, rapporti sessuali, a centinaia. A me piace venire a casa mia e continuerò a farlo. Un impegno di forze che è degno di una rettata contro la mafia. In conclusione, una casta di privilegiati può commettere ogni abuso a danno di altri cittadini senza mai, mai, doverne rendere conto. Dillo così, con quella forza che ha solamente, che è puro di mente, Presidente siamo con te, meno male che Silvio c'è. Presidente questo è per te, meno male che Silvio c'è. Dillo! 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 Città! Dillo!